Stamattina con il fratello di Caia Paolo, non toccare mia sorella Paolo, leva quelle manacce Thomas, la tocco solamente con il tuo consenso E la tua sorella è giustissimo che tu decida, chi può toccarla o meno Ti chiedo scusa e ti assicuro che non avverrà più In seguito a questa foto E giustamente lui mi ha detto, mi ha invitato a non toccarla Questa foto la stavo toccando Questa è l'ultima foto che ho fatto con la mia mica Caia Le ho sempre avuto bene e fa male saperle in un altro posto adesso Allora, la battuta qui era chiarissima Il fatto che Caia fosse almeno la cinquantina di persone Meno che se si era viva Questa cosa mi ha fatto sentire vivo